Ciao e bentornato! Oggi guarderemo insieme un esercizio che ho pubblicato sul sito la settimana scorsa. L'esercizio si chiama Rock Groove & Fill e puoi scaricare il pdf gratuitamente cliccando sul link che trovi qui sotto al video. Ho voluto prendere spunto per questi groove da alcuni metodi che utilizzo e studio anch'io. I fill che troverai invece sono stati scritti da me e sono uno spunto per aiutarti a creare qualcosa di tuo. Ok, ora veniamo ai fatti. Allora, ora ti suonerò tutti i groove, uno alla volta e quattro ripetizioni per groove. Ritmo 1 Ritmo 2 Ritmo 3 Ritmo 4 Ritmo 5 Ritmo 5 Ritmo 6 Ritmo 6 Ritmo 6 Ritmo 7 Ritmo 7 Ritmo 7 Ritmo 7 Ritmo 7 Ritmo 7 Ritmo 8 Ritmo 8 Ritmo 8 Ritmo 8 Ritmo 9 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 Quindi avrai un esercizio composto da tre misure di groove più una di feel. Grazie per la visione! Ok, non mi resta che salutarti. Anche quest'oggi spero di aver fatto qualcosa di utile. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e continua a seguirmi perché presto ci saranno tante altre novità. Un saluto e un abbraccio. A presto, ciao!